Quali sono stati gli ostacoli più grandi che avete affrontato durante il lavoro sul DataGate? Il principale ostacolo che abbiamo incontrato nel nostro lavoro è stata l'interferenza dei governi, soprattutto quello britannico. Abbiamo dovuto spostare i nostri computer dove tenevano i dati negli Stati Uniti. E questa interferenza è avvenuta in una democrazia, in Europa. È scioccante. Credo che tutti insieme dobbiamo provare a resistere a tutto questo. Come è cambiato il mondo del giornalismo dopo il caso Snowden? Penso che il caso Snowden abbia dato due grandi lezioni al giornalismo. La prima è che dobbiamo iniziare a pensare a come proteggere veramente le nostre fonti e a come trattare in maniera sicura i nostri dati. Non solo noi giornalisti ma anche i nostri lettori. Il tema della sicurezza digitale oggi è diventato mainstream. La seconda lezione è che tutto questo materiale è uscito grazie alla collaborazione tra le grandi testate internazionali come il Guardian, il New York Times, The Spiegel e ProPubblica. E penso che dobbiamo riflettere su come qualche volta mettere da parte le rivalità e fare squadra. Ci permette di far uscire le storie nel miglior modo possibile. Qual è stata la reazione della politica? Ci sono state molte riforme, alcune credo siano buone. Abbiamo messo nei limiti alla sorveglianza ma dobbiamo tenere alta la pressione e l'attenzione. Ma veramente dobbiamo mantenere la pressione e l'attenzione.